Ciao, bentornato sul canale YouTube dell'Associazione Culturale Maggiolina. Con questo video continua il corso di computer base. Subito dopo aver parlato delle finestre nel video precedente, se non lo hai visto ti metto il link sulla i qui in alto, andiamo a parlare, per ordine di importanza, della tastiera di come scrivere le cose nel nostro computer. Per scrivere con il computer serve un programma di scrittura. Serve che nel tuo computer ci sia dentro, installato, caricato, un software per la videoscrittura. Solitamente si usano dei software professionali e anche noi andremo a farlo. Ma oggi, dato che dobbiamo solo imparare ad inserire del semplice testo, ti faccio aprire un programma già presente nel tuo computer più semplice ma che serve allo scopo. Andiamo sulla nostra barra delle applicazioni, qua in basso, e nell'area di Cortana facciamo un click e scriviamo WordPad, W-O-R-D-Pad. Eccolo qui. Ho solo accennato l'inizio della scrittura e il computer mi propone già, qui in alto, WordPad. Questa è un'applicazione, è un programma presente ormai da tantissimo tempo su tutti i computer con Windows che fornisce gli strumenti per scrivere. Clicco una volta per aprire questa finestra. Bene, ora abbiamo aperto il programma. Ti faccio notare che si apre in una finestra per ricollegarci al video precedente come discorso lo tengo volutamente un po' più piccolo perché io ora mostro la tastiera del mio computer. Quindi io agirò sulla tastiera fisica del mio computer ma qui tu hai la possibilità di vedere quello che premo. Ovviamente nel tuo caso sarà opportuno ingrandire la finestra se già non fosse così per vedere al meglio quello che vai a scrivere. Vado anche ad ingrandire un po' la schermata affinché si veda meglio quello che scrivo. Io qui sulla destra ho un piccolo più che serve a zoomare, ad avvicinarci il foglio. Probabilmente sarà coperto dalla mia immagine ma ti sarà facile vederlo. Facciamo in questo modo. Mi abbasso un po' in modo che si possa vedere. Ecco, questo più vado a cliccarlo per zoomare la pagina e quindi vedere più in grande il mio foglio. Poi riporto la schermata in alto in modo che sia facilmente leggibile. Bene, ora faccio clic nel mio foglio e in un punto predefinito del foglio appare questa barretta lampeggiante. Quella barretta lampeggiante è il cursore. La troverai sempre quando nel computer è previsto che tu scriva qualcosa. Perché il cursore ci indica il punto esatto dove verrà inserito il testo che noi andiamo a digitare sulla nostra tastiera. E così, tanto per provare, di solito ai corsi che faccio in presenza faccio scrivere corso di computer così come viene senza premere nient'altro. Quindi io digitando le lettere sulla mia tastiera lo faccio sulla tastiera fisica scrivo corso di computer. Bene. La prima cosa che voglio fare a questo punto è andare a capo. Andare nella riga successiva. Per andare sulla riga successiva mi serve un tasto speciale che utilizzeremo spesso anche per altri scopi che sulla mia tastiera qui si chiama invio. Generalmente questo tasto è il più grande della nostra tastiera perché è molto utilizzato. Riporta la scritta invio oppure ok oppure enter. Queste sono le scritte che via via si sono susseguite su questo tasto con il passare del tempo o con il cambiare delle marche dei computer. Ora questa scritta è abbinato praticamente sempre un simbolo per cui al di là di ciò che trovi scritto su alcuni computer sul mio in questo caso non c'è neanche più la scritta trovi un simbolo un simbolo che riporta una freccia che dice sotto e a capo per cui una freccia con un piccolo angolo retto che ti fa capire che premendo quel tasto tu vai sotto di una riga e a capo della riga stessa per cui vado a premerlo sulla tastiera o in questo caso come faccio io ora con il mouse sul tasto invio premo ed ecco che il mio cursore è andato nella riga successiva per ora non ci preoccupiamo dello spazio che ha lasciato tra una riga e l'altra è tutta una cosa che vedremo di sistemare eventualmente in seguito ora mi basta sapere che io sono andato a capo bene torno a scrivere nuovamente corso di computer aggiungendo qualche altra parola vorrei intanto iniziare a scrivere le maiuscole quando servono quindi inizio a scrivere corso la C di corso la voglio fare grande perché inizia una nuova riga un nuovo capitolo se vogliamo per fare la maiuscola devo tenere premuto un tasto in contemporanea alla C quindi sì devo premere la C ma contemporaneamente alla C deve essere premuto un tasto che è quello delle maiuscole eccolo qua il suo nome originale è shift e serve per fare la maiuscola singolarmente ora su questa tastiera italianizzata c'è la parola maiuscolo abbreviato sui computer in generale sulle tastiere fisiche dei computer questo tasto è rappresentato da una freccia che punta verso l'alto la freccia verso l'alto sta a significare che fa la lettera maiuscola perché in passato sulle macchine da scrivere c'erano stampati due caratteri la C in minuscolo e la C in maiuscola la C grande era stampata sopra per cui la freccia in alto indica che utilizzi il carattere più in alto ed è la maiuscola ora sulle nostre tastiere c'è un solo simbolo e sappiamo però che per ottenere la maiuscola devo tenere premuto quel tasto mentre vado a premere la lettera corrispondente per cui ora con un dito premo il tasto maiuscolo ti faccio notare che la mia tastiera mostra che il tasto shift quello delle maiuscole è attualmente premuto tant'è che viene evidentiato in azzurro e scopriamo che c'è un secondo tasto per le maiuscole che potrei utilizzare quindi che io prema il tasto di sinistra quindi nel mio caso la freccia di sinistra ok io prema la freccia uguale come simbolo corrispondente sul lato destro ottengo lo stesso risultato ne premo uno dei due e in contemporanea premo la C sulla tastiera che in questo caso verrà grande a questo punto rilascio il tasto maiuscolo e scrivo il resto della frase per cui corso e il resto della frase dato che non c'è la maiuscola inserita viene scritta in piccolo un altro tasto che do sempre per scontato ma in realtà non è così per i principianti totali di computer è lo spazio per fare lo spazio serve la barra spaziatrice questo tasto lungo vado a premerlo e ottengo lo spazio quindi corso di computer associazione culturale maggiolina voglio la A grande quindi il mio tasto shift premo la A e lascio andare scrivo il resto della frase culturale C grande e maggiolina M grande bene torniamo ad andare a capo per cui sempre il mio tasto invio ora potrebbe capitarti di voler scrivere qualcosa tutto in maiuscolo tipo corso di computer e associazione maggiolina la voglio scrivere tutto in maiuscolo non avrò voglia quando sarò qui per scrivere associazione maggiolina di tenere premuto il tasto shift continuamente così a lungo vediamo come si può fare allora vado a premere corso e utilizzo lo shift quindi tasto maiuscolo C di corso per farlo grande e poi vado avanti allora corso di computer e ora è il momento di inserire associazione maggiolina tutto in grande vado a premere il tasto blocca maiuscole il suo nome originale inglese quindi su molti computer è ancora riportato è caps lock maiuscole bloccate spesso è rappresentato da un lucchetto sulla tastiera è sempre sulla sinistra della tastiera ed è sempre sopra al tasto maiuscolo allo shift che hai sulla tua tastiera quando vado a premere questo tasto ora lo premo do un colpetto col mio dito sulla tastiera resta inserito quindi io ho lasciato andare le mani e il tasto resta inserito per cui da adesso in avanti il mio computer scrive sempre in maiuscolo in passato nei computer questa condizione di scrittura sempre in maiuscolo ti veniva in qualche modo segnalata tentè che io sul mio computer ho tuttora una segnalazione sotto forma di una piccola lucina che si è illuminata proprio sul tasto con il lucchetto e sta ad indicare che le maiuscole sono inserite su questa tastiera virtuale nel computer il computer ha cambiato la simbologia delle lettere scrivendola ora in maiuscolo e su altri computer non viene più indicato per cui guardati attorno cerca di capire se sul tuo computer è indicata la condizione di maiuscolo oppure no perché sarebbe comodo averlo se non c'è pazienza ci adegueremo però prendi coscienza del fatto che ci sia oppure no e impara a riconoscerlo ora posso digitare tranquillamente associazione culturale maggiolina e verrà scritto tutto in grande la velocità nel digitare sulla tastiera all'inizio se sei principiante può mancare ma non ti preoccupare ti basterà scrivere 3-4 lettere per arrivare ad una buona velocità quindi non ci preoccupiamo di nulla in tal senso la prima cosa che puoi fare per imparare ad utilizzare meglio il computer dico sempre è scrivere prendi un qualcosa un articolo di giornale una lettera una pubblicità e copiala all'interno del tuo computer se puoi copia lo stesso articolo più volte perché così imparerai più facilmente la disposizione delle lettere ed è una cosa che semplicemente con l'esercizio sarai in grado di fare ora voglio tornare ad andare a capo per cui premo invio se mi accingo a scrivere qualcosa d'altro mi devo preoccupare del discorso maiuscole o minuscole perché quel qualcosa d'altro che andrò a scrivere devo decidere se sia grande e piccolo per cui in questo caso vado a disattivare il caps lock il blocco delle maiuscole premendoci sopra una volta e lui torna normale se hai la lucina nel tuo computer a quel punto la lucina si spegne e torna con scrittura normale ora vorrei scrivere un numero per scrivere un numero è piuttosto semplice ti basta scegliere uno di questi tasti che hai sulla tua tastiera io voglio scrivere il numero 5 vado a digitare 5 ed ecco che mi appare il numero 5 così come tutti gli altri numeri se volessi scrivere 5% quindi il simbolo della percentuale se ci guardiamo attorno sulla nostra tastiera è anche lui sul tasto numero 5 in questa posizione qui quindi scritto subito sopra al numero 5 per ottenere quel simbolo ho bisogno del tasto shift quello per le maiuscole quindi in questo caso l'etichetta posta sul tasto non è cambiata rispetto alla vecchia macchina da scrivere anche allora c'era il numero 5 e sopra c'era la percentuale per farti capire che per ottenere il 5 devi premere la freccia che va verso l'alto ovvero lo shift e quindi quel tasto non farà più il 5 ma farà il simbolo percentuale qui visivamente il mio computer mi fa vedere anche graficamente il cambio della simbologia lascio il tasto vedo il 5 in bianco premo il tasto vedo in bianco il simbolo percentuale che ora vado a digitare in questo modo ho scritto il 5% e così faccio per tutti gli altri tasti quindi tutti i numeri hanno una simbologia aggiuntiva sul tasto che viene richiamata dal tasto shift quello delle maiuscole ci sono anche altri tasti da queste parti che fanno lo stesso discorso per cui puoi provare ad esercitarti in tal senso un tasto che probabilmente avrai esigenza di conoscere subito è quello che ti serve per cancellare per cancellare la nostra scrittura faremo un discorso a parte ne parleremo successivamente in uno dei prossimi video per adesso ti fornisco l'utilizzo di questo tasto di cancellazione perché quando scrivi ti capiterà di sbagliare ed è questo è sempre in questa posizione della tua tastiera quindi in alto a destra rispetto a tutte le lettere riporta un simbolo di questo genere o comunque una freccia che indica indietro questo è se vogliamo il simbolo ufficiale vorrebbe essere una freccia indietro con una X e quindi vuole dirti che lui torna indietro e tornando indietro cancella quello che incontra per cui se io vado a premerlo una volta sparisce il simbolo della percentuale se vado a premerlo un'altra volta sparisce il 5 se vado a premerlo un'altra volta dato che sono a caporiga il computer torna indietro e si riporta in corrispondenza di maggiolina e se continuassi a premere andrei nuovamente a cancellare queste informazioni nel prossimo video approfondiremo ulteriormente l'utilizzo della tastiera nel frattempo ti invito ad esercitarti un po' con la tua tastiera e quindi a scrivere come dicevamo prima qualsiasi cosa ti venga sotto mano e se ti va prova ad inserire il simbolo dell'euro quindi scrivere il numero 5 con a fianco il simbolo dell'euro quando guardo un video a questo punto faccio sempre sapere alla persona che lo ha fatto se mi piace oppure no e se mi piacciono i suoi video se ancora non l'ho fatto mi iscrivo subito al canale alla prossima